Si è svolta al Tribunale di Patti l'udienza nei confronti dei 17 imputati dell'inchiesta Camelot sugli appalti al comune di Sant'Agata Militello. Dopo la prima fumata nera nella seduta del 17 novembre, rinviata per il difetto di due notifiche, di fronte al collegio giudicante Presidente Potestio a Latere, Vona e Torre, sono state affrontate le questioni preliminari sollevate dalle parti. La pubblica accusa era rappresentata dal procuratore capo della Repubblica, Rosa Raffa. Le difese hanno sollevato diverse eccezioni di nullità o inutilizzabilità degli atti. L'avvocato Massimiliano Fabio, in particolare difensore del principale degli imputati, l'ingegnere Giuseppe Conti Guglia, ex capo ufficio tecnico al comune di Sant'Agata e ritenuto dagli inquirenti figura chiave del sistema, ha chiesto la nullità per difetto di notifica ai difensori e mancato deposito delle intercettazioni, delle richieste di rinvio a giudizio, del relativo decreto che dispone il giudizio e della fissazione dell'udienza. Riguardo le intercettazioni ambientali, telefoniche e informatiche, secondo la difesa di Conti Guglia sarebbero quindi inutilizzabili gli atti successivi al 13 giugno 2011 poiché oltre il termine delle indagini preliminari, infine il legale difensore di Conti Guglia ha chiesto l'inutilizzabilità degli atti relativi alla contestazione di truffa aggravata poiché trattasi di fatti già conosciuti e comunicati. Il presidente del collegio ha quindi aggiornato le parti per il prossimo 18 marzo per la lettura dell'ordinanza relativa alla nuova richiesta di costituzione di parte civile da parte di Barbara Marino, già rigettata in sede preliminare e per le richieste di prova. Stilato anche un primo calendario di udienze con l'indicazione delle date per i prossimi 8 aprile e 13 maggio.